ciao sono cristian marchi e anch'io ascolto radio maraia un buon pomeriggio da radio maraia vamos alla playa io sono padre pollo e con me alla parte musicale del programma c'è l'incredibile suor cavalla con due oggi è son fumagazzi pensate proprio come gli orologi che ci hanno inviato stamattina ma come mai sono proprio gentili oggi vogliamo aprire questa puntata con un brano fantastico direi incredibile di davide bisballo quindi già sta entrando sotto e sentiamo non riesco a stare fermo mi si muove tutto l'abito talare né mamma mia nessun odore di muffa da qua sotto mamma mia ma che bello da oggi suor cavalla stai anche usando il campionatore nuovo che ci hanno regalato quelli della del negozio di musica qua vicino né fai sentire qualche altro tasto fai simpatico basta basta con la musica basta suor cavalla bene bene allora cosa facciamo adesso suor cavalla abbiamo una fedelissima decrepita al telefono frate radio maraia vamos alla playa è disco radio maraia domenica buongiorno 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 come state bene bene grazie lei ma non c'è di che sempre sia suonato ma sempre sia suonato allora oggi ti volevo rubare altri cinque minuti ok per pregare con te con delle preghiere nuove che noi stiamo diciamo così organizzando si per per il per la nuova primavera perché come puoi vedere papà francesco ha cambiato anche un po il modo di 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 approcciare noi noi della chiesa con i giovani e non solo con i giovani e quindi abbiamo queste nuove preghiere se tu la vuoi ripetere insieme a me così tanto poi quando verrai in chiesa poi ti daremo lo culo puscolo lo culo puscolo e potrai leggerle insieme a noi cantando le parole bene 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 allora dal salmo di Beato Julio se mi lasci non vale 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 eh sento allora la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio no signor e tu senza dirmi niente hai trovato il coraggio ecco con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella di chi tik poi si ribella di chi simale di chi poi si allora di chi poi si ribella di chi pò si ribella ma quando ti arrabbi sei ancora più bella Ma quando ti arrabbi sei ancora più bella Ok Se mi lasci non vale 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 Non ti sembra un po' caro Il prezzo più caro che io sto per pagare Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale Adesso ti leggo un'altra Hai come sempre con te Hai un ostia qualcosa lì vicino Sì c'ho C'ho Una fette biscottata Fai un bel morso Fai sentire che ce l'hai in bocca Prova a dire il mio nome Paz Pollo Perfetto Allora Questa è dal Vangelo secondo Nada Sta perdendo Sta perdendo tempo Sta perdendo Sta perdendo tempo Sembra un angelo Caduto dal cielo Cielo Come vestita Come vestita Quando entra il sassofono blu Ma si annoia Appoggiato a uno specchio Tra fanatici in pelle Che la scutano senza poesia Sta perdendo Sta perdendo Sta perdendo Sta perdendo Sta perdendo tempo Tempo Ok poi fa Sta perdendo Sta perdendo Sta perdendo Sta perdendo tempo 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 sempre sia lodato va bene senti vuoi che dedichi alla radio qualche disco che vuoi dedicare tu a qualcuno allora saluto a tutti i miei amici i miei parenti e soprattutto a mia figlia e al mio genere allora il disco che andiamo a mettere adesso che tu dedichi a tutti i parenti è un disco dei Nirvana il disco si chiama Smells Like Ten Spirit che vuol dire salta lo spirito nel cielo ok ciao domenica ciao a te vedercene a te vedercene salta l'angelo ti ringrazio mio signore non ho più paura ciao a te vedo ciao a te vedo ciao a te vedo